Benvenuti amici di TecAndroid.it, Motorola Moto G è appena arrivato, andiamo a effettuare l'unboxing grazie ad Orange che ha un proprio store in Italia, troverete il link nell'articolo. L'offre a 214€, in 99 diciamo 215€, parliamo della versione da 16GB. Andiamo a vedere all'interno della confezione cosa troviamo. All'interno ovviamente abbiamo come prima cosa il dispositivo, poi lo andremo a vedere meglio dopo aver visto cosa ci offre ancora la confezione. All'interno della confezione troviamo ovviamente il cavo, non abbiamo un cavo dati ma abbiamo un caricatore, un alimentatore da parete con cavo micro USB, le cuffie non in IR ma cuffie standard finalmente e la manualistica rapida per il primo accesso e alcune informazioni. Per quanto riguarda il Moto G come sappiamo ovviamente troviamo ancora nella plastica anteriore la scritta ai Google Company, ovviamente il Moto G e il Moto X sono nati dopo l'acquisizione da parte di Google della Motorola. Vediamo se riesco a togliere la plastica anteriore, nel frattempo vi parlo delle dimensioni, niente non ci riesco. Abbiamo un'altezza di 129,9 mm per una larghezza di 65,9 per uno spessore di 11,6 mm. Il dispositivo non è piccolissimo né sottilissimo però è molto ben bilanciato, pesa 143 grammi, la cover posteriore in una plastica gommosa insieme a una leggera incurvatura del retro fanno sì che l'impugnatura sia veramente ottimale, il grip è eccezionale. Andiamo ad effettuare la prima accensione, nel frattempo vi fornisco altre informazioni tecniche, diciamo quelle più generali, poi andremo ovviamente a recensirlo nei prossimi giorni in modo approfondito, vi forniremo la recensione come sempre molto molto dettagliata. Abbiamo un display che ha una diagonale di 4,5 pollici HD, quindi 1280x720 pixel, con una densità pari a 326 ppi, infatti già come si vede dall'accensione i colori sono molto molto definiti e dettagliati. Chiaramente adesso richiederà tutta una serie di impostazioni come sappiamo quando si avvia per la prima volta un dispositivo. abbiamo un processore Snapdragon 400, 1GB di RAM, 16GB di memoria interna e Android 4.4. vediamo se riusciamo finalmente, ecco ci siamo riusciti ad avviarlo. I colori sono veramente stupendi, la versione Android è praticamente quella stock, quindi quella appunto fornita da Motorola, scusate voglio dire da Google, quindi la fluidità e l'ottimizzazione del sistema sono, come vedete, veramente ottimi. Comunque, dopo aver effettuato questa prima accensione, vi ripeto, lo trovate sul sito di Orange a 214€, 215€, con spedizione gratuita, perché il sito di e-commerce di Orange ha effetto spedizione gratuite per valori superiore ai 100€, per acquisti superiore ai 100€, quindi 215€ sono puliti senza, e lo avrete senza spesito di spedizione, lo riceverete a casa direttamente in 2-3 giorni. Con questo è tutto, un saluto a tutti i lettori di EchoAndroid.it